Rivelazione in attesa dopo Il Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela un segreto su Giuseppe Garibaldi. Una settimana fa, lunedì 25 marzo, si concludeva l'avventura di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Dopo sei mesi di emozioni intense e un secondo posto che ha lasciato l'attrice con un senso di incompiutezza, finalmente ha deciso di rompere il silenzio. In un'intervista esclusiva Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Beatrice ha aperto il suo cuore e ha svelato dettagli sorprendenti, inclusi quelli sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Con grande sportività, Beatrice ha ammesso di aver accettato il secondo posto, pur desiderando la vittoria per i suoi figli. «Non ho provato rancore», ha dichiarato, «ma vincere avrebbe dato un significato ancora più profondo a questa esperienza». Il percorso di Beatrice non è stato privo di ostacoli. Ha raccontato di essere una persona diretta, che esprime ciò che pensa con franchezza, anche se a volte potrebbe pentirsene. «Mi sono sentita sola dentro la casa», ha confessato, «ma ogni volta rinnovavo la speranza, anche se poi venivo sempre nominata». Parlando del suo rapporto con gli altri concorrenti, Beatrice ha rivelato di aver perso stima nei confronti di alcuni di loro a causa dei loro comportamenti. Tuttavia, ha aggiunto che verso la fine del suo percorso, quando non poteva più essere nominata, tutti sono diventati improvvisamente più amichevoli, cosa che l'ha lasciata perplessa. Ma la parte più intrigante dell'intervista è stata quando ha menzionato il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Giuseppe non si fa capire, ha ammesso, lasciando i fan a speculare su cosa potrebbe significare questa misteriosa frase. Con ogni parola, Beatrice Luzzi ha aggiunto un nuovo strato di mistero alla sua storia post-grande fratello, lasciando i lettori con un desiderio irresistibile di saperne di più.